Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con un nuovissimo e bellissimo video Preparatevi tutti perché da oggi i video su YouTube non saranno più gli stessi Guardate che cosa ha comprato Mattio Questa macchinetta per fare le foto che fa molto bene, dicono i video Molto bellini, io non so questo qui che serve per spruzzare l'acqua probabilmente, non lo so Boh, a che serve Mattio? Quello è l'audio, il microfono Un audio molto simpatico, sarà molto bello anche l'audio Fa vedere lo schermo Vai, tira fuori Non lo so fare Tira fuori La rompo Mattio, la rompo Grazie a questa fotocamera, videocamera potremo fare molti belli video Dimmi quando inizi, eh? È iniziata Oh, bello a tutti ragazzi, sono il vostro YouTuber preferito Questo è ufficialmente il primissimo video in 4K E la qualità sarà altissima Mi dispiace perché io tanto bello non sono Però sono simpaticissimo E quindi vi beccate la simpatia in 4K E andremo in vacanza in 4K E poi